Andiamo in provincia di Bergamo da Marzia, buonasera. Buonasera Cruciani, mi hanno passato la telefonata, sono Paolo Papillo, buonasera Cruciani. Papillo, 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 che mi combina Papillo? Eh che mi combina, mi censura e io il filtro lo buco uguale quando voglio. Niente, posso esprimermi il mio parere che vuole, però perché questi trucchetti? Perché non mi fa mai entrare in diretta, adesso ci sono migliaia di persone. No, ma sì. Non mi fa mai entrare in diretta. Allora, aspetti un attimo, Marzia chi è? Marzia è una mia amica, una mia collaboratrice, ho anche collaboratori adesso, sa? Pure. Esatto. Allora, vogliamo dire una cosa, informazione dal basso, vedete che le faccio pure pubblicità, come è? Informazione... Dica. No, lei mi attacca sempre, io invece le faccio pubblicità, vede la differenza di stile? No, era caro, Cruciani, la differenza di stile sta nel fatto che lei ha un potere di censura nei miei confronti. Ma quale censura la faccia finita? Ma beh, comunque non vogliamo fare la censura, se no... No, per carità, per carità, no, però Papillo mi spieghi una cosa. Allora, come si chiama? Informazione dal basso, punto it. Senta, ultimamente l'ho sentita, ultimamente l'ho sentita intervenire addirittura in una trasmissione, sempre radiofonica, perché in televisione lei interviene poco, anche se riesce pure ad andare in televisione, ogni tanto in qualche trasmissione dove ci sono le telefonate, in una trasmissione della Buonaccorti, o sbaglio, io dico una cosa, lei che mestiere fa, Papillo? Io faccio l'autista. L'autista, questo lo sappiamo, autista di cosa? Di camion. Di camion. Ma dove lo trova il tempo di intervenire in tutte le trasmissioni della RAI, private? Cioè, dove lo trova? Io ascolto informazione dalla mattina alla sera. Ma dove? Come? Quando lavora? Come la radio? Vabbè, quando lavora, non è che lavora 24 ore su 24. Ho capito, ma uno che lavora... Ma penso che ha poca importanza come trovo il radio. No, come no? E come ha poca importanza? Ha importanza. Lei io l'ho soprannominata, forse sbagliando, per carità. No, ecco, lì un po' mi dà fastidio. Perché le dà fastidio che la chiami il Paolini della radio? Io cerco di... Quando mi è consentito, e la ringrazio che stasera me lo sta consentendo, spero mi consenta anche di dire qualcosa altro. Guardi che io la vorrei, la vorrei tipo ospite fisso, forse non l'ha capito. E va bene, perché non mi chiama? Perché, Papillo, è perché a disposizione. Se lei fosse... Poi ci mettiamo d'accordo, comunque non so. No, ma facciamo una cosa, Cruciani. Io a volte ho un linguaggio un po' forte. No, ma lei fa bene avere un linguaggio forte, noi vogliamo linguaggi forti. Un attimo solo. Ce l'hanno persone che non... Ho il traffico, non la voglio censura, ho il traffico. Naturalmente non era il traffico, ma erano i canonici 30 secondi di interruzione delle 19.45. Allora, 80024, 0024, abbiamo il nostro, come dire, incursore preferito qui da noi. Eccoci qui, Papillo. Papillo, senta un attimo, noi abbiamo un ospite d'eccezione. Io vorrei che lei facesse una domanda a questa persona. Se lei dovesse fare una domanda a Minzolini, che domanda farebbe a Minzolini? La prima cosa che le viene in mente, qual è? La domanda è come si può confondere la professione di giornalista, inteso come persona che dà informazione, con neppure nemmeno che essere un ufficio stampa, perché un ufficio stampa trasmette in maniera acritica quello che gli viene detto di trasmettere. Cioè, quando la soluzione di Minz, guardi... Ma quella è di fare la domanda, non una considerazione. Che domanda farebbe? La domanda è questa. Perché fa l'ufficio stampa e non il giornalista? Questa è la domanda? Sì, la domanda non è una domanda di quanto fa uno più uno. No, no, ma va bene, non ti dico che va male. La domanda è questa. Perché fa l'ufficio stampa di Berlusconi e non il giornalista? Vacanze di Pasqua, tante le offerte per viaggio a basso costo, richiestissimi maricoli... Va bene, 22 minuti. Allora, Paolo Papillo, vogliamo parlare dell'inchiesta di Berlusconi, di Trani? Che ne pensi? Hai sentito oggi dai telegiornali le reazioni di Berlusconi sui magistrati, no? Sì, io la sto seguendo molto attentamente. Poi nel mio piccolo facciamo anche noi informazione, siamo parecchi oramai da quel punto di vista. Ma quanti collaboratori hai, Paolo? Allora, fino a del tu. Diamoci del tu, diamoci del tu. No, beh, collaboratori saltuari, non è che c'è qualcuno a libro paga, però il giro si sta ampliando, c'è parecchia voglia di parlare, di dire le cose senza appelli sulla lingua. A volte mi rendo conto che tocca alzare la voce per farsi ascoltare, perché gli spazi che abbiamo sono molto limitati. Però la cosa sta andando abbastanza bene. Allora, vabbè, Berlusconi che dice... Ma Berlusconi, guarda, io stavo leggendo adesso, in questo momento ero fino a 10 settembre davanti a un monitor, stavo leggendo che ha dichiarato poco fa, crede, un lancio di Repubblica, che i giudici gli impedissero di raccontare dei suoi successi. Adesso, io dico, a questo punto dico meno male, perché io Berlusconi me lo trovo anche che mi esce dalla tazza del water fra un attimino. Dico, perché lo trovo dappertutto. Oltretutto parlare dei suoi successi a senso unico. Allora, uno può raccontare quello che vuole e infatti racconta quello che vuole. Appena uno si alza per fargli una domanda, interviene il ministro della difesa dei fatti loro e lo caccia fuori. Vabbè, su quello, su quello, torniamo a lei, Papillo. Su quello io non sono d'accordo, però torniamo a lei così mi va a ripensare. No, ho capito, però su quello, lei non sarà un po' invidioso di cosa, no? Di Carlo Maglio, no? No, assolutamente no. L'intemerata di Carlo Maglio, no? Ma no, ma non mi interessa, il problema è che li metti più in difficoltà qualora è il tempo di argomentare. Questo non ha avuto neanche il tempo di argomentare. Cioè, io mi riconosco a modo di fare di informazione come possono essere, come posso dire... Ecco, qual è il suo modello? Il suo modello, Papillo, qual è? Perché non dobbiamo dimenticarci che Paolo Papillo, appunto, è un camionista, posso dire, un autista. Anzi, un autista. Un autista il quale fa un'informazione un po' garibaldina, diciamo, la posso chiamare così, non è un insulto. Non penso che sia un complimento. Un'informazione un po' garibaldina, con intrusioni, soprattutto in trasmissione, ma poi anche con contributi. Ogni tanto riesce a beccare col telefonino dei politici e picchia duro. Allora, voglio far ascoltare una delle ultime intrusioni di Papillo. Andiamo. Paolo da Pistoia. Buonasera, Paolo. Buonasera. E questo è il tempo della censura. Spero non mi vogliate censurare, ovviamente. Questo è il tempo dove un Presidente del Consiglio e un Ministro aggrediscono e cacciano fisicamente da una conferenza stampa a un giornalista. Sì, però questa è un'altra analisi del tempo. Io, Paolo, Paolo, ascolti a me, Paolo. Mi deve far finire. No, mi deve far finire, se non censura. Allora, i giornalisti non reagiscono, rimangono lì. Questo è il tempo dove l'arroganza e la prepotenza comandano e la gente vigliacamente sta zitta. Sì, allora adesso faccia parlare me. Altro intervento di Papillo dalla Buonaccordi. Pronto? Sì, prego. Eh, ma però mi avete tolto l'audio, scusi. No. Non è neanche giù. No, no. Quanto parla... Non è stato tolto l'audio. La regia ha tolto l'audio. È stato tolto l'audio? No, mi dicono di no. Vabbè, è che sono pazzo, io me lo invento. Concludo, la ringrazio per l'ospitalità. Allora, ci sono i primati che parlano. Allora, Papillo, però, è proprio quella trasmissione, ma è una trasmissione tranquilla, pure in quella trasmissione, poi sempre questa fissazione della censura. Ma come, censura? Guardi che se io dico che mettono l'audio superiore all'ascoltatore come volume, è vero? Perché devo mentire? Ho capito, ma non è che la vogliono censurare, perché magari nell'economia... Guardi che sono anni che ci sentiamo, la seguo, lì conosco i trucchi oramai, potrei sostenere in attività. Ma perché andate a rompere le scatole a Dona Corte? Non rompo le scatole a chi voglio, ma dove sta scritto che non si possono rompere le scatole? No, ma lo dico scherzosamente. Ma io altrettanto scherzosamente gli rispondo. Cioè, allora, le trasmissioni della RAI, oramai, anche quelle che facevano in trattenimento, diciamo, in trattenimento, pardon, informazione, quelle che hanno chiuse, vabbè, l'hanno chiuse, unico precedente nei paesi occidentali, quelle altre si occupano... La sera prima parlavano della vista, un po' poi dell'olfatto, mancava il sesso degli angeli e poi ce l'abbiamo... Ma ho capito, ma la Buona Corte non è che parla di politica, non è che può pretendere... Ma a volte parlano di temi sociali, comunque, hanno eliminato anche quelli perché la crisi non c'è. E lei vuole intervenire invece sempre sulla... Cos'era l'intervento che voleva fare la Buona Corte? Sulla russa, sulla russa, sul ministro... Ma io l'ho buttato lì, ma guardi, che mi è venuto in mente, io l'ho buttato lì, io non è che io vado a braccio, non ho neanche bisogno... Rispetto, guardi, alla mediocrità dei nostri politici, gente semplice come me, a volte ha molte più cose da dire a braccio, senza scriversi nulla. Ho capito. Di chi si va lì e si prepara il discorso, le panzane come quell'altro che oggi mi ha letto il messaggio a Rete Unificate, il Partito dell'Amore... Ma non è a Rete Unificate, è sul sito del Pdl, che Rete Unificate, papiro? Lo stanno rilanciando tutte le televisioni... E vabbè, ho capito, ogni parola che Berlusconi... Il Partito Cruciani, ma scusami un attimo, il Partito dell'Amore, ma ci saranno stati diabetici, sono andati in crisi per glicemica, è vomitevole sostenere queste cose qua, ma veramente ci ha preso per una banda di scemi questo qui. E questa è una vanna marchi della politica, sparano cazzate a milioni di persone e trovano milioni di persone che se le bevono, è così. Grazie 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 Grazie